Io mi chiamo Davide Reina, lavoro in Urmet da sei anni oramai e mi occupo di vendita. Sono un consulente tecnico, lavoro sul territorio di Torino e provincia. Il mio lavoro è un lavoro molto interessante perché ti permette di stare a contatto tutto il giorno con le persone. Impegnativo, molto impegnativo però gratificante. Allora, il venditore Urmet quando inizia la giornata ha già pianificato quello che deve fare, ha già una serie di appuntamenti e di attività che deve svolgere, parte e va a caccia. Il brand Urmet è un brand molto importante, storico e riconosciuto dal mercato. Questo è un grande vantaggio per noi. Quando finisco la giornata generalmente mi occupo dei miei hobby che sono lo sport, gioco a tennis, mi piace molto, vado in moto, sto con la mia famiglia. Diciamo che è un lavoro in cui spesso bisogna sporcarsi le mani. È un lavoro molto faticoso perché si tratta di rompere muri. La mia serie preferita è Stranger Things. Il toro. Il toro. Il toro. Il toro. Il toro. Il toro. Grazie a tutti